Nel silenzio dei sussurri della storia, dove il confine tra vita e morte si offusca, esistono rituali che sfidano la comprensione dell'anima moderna. Oggi ci addentriamo nel mondo arcano e solenne dei rituali della morte, dove la ricerca umana dell'immortalità, onore o redenzione, assume forme sia affascinanti che macabre. Il Sokushinbutsu, l'automumificazione dei monaci buddhisti in Giappone, emerge dalle montagne nebbiose della prefettura di Yamagata. Questa pratica, che raggiunse il suo apice tra l'undicesimo e il diciannovesimo secolo, vide i monaci intraprendere un arduo viaggio di digiuno e meditazione, che alla fine portava alla loro morte e mummificazione mentre erano seduti nella posizione del loto. Il processo, inteso a raggiungere l'illuminazione e salvare gli altri assorbendo la loro sofferenza, richiedeva un decennio o più di preparazione. Avventurati ora nelle gelide paludi del nord Europa, dove sono stati scoperti corpi naturalmente conservati di uomini, donne e bambini, alcuni risalenti a 8.000 anni prima dell'era comune. Questi corpi delle paludi, con la pelle conciata e conservata dalle acque acide, offrono uno sguardo inquietante sui riti passati, possibilmente di vittime sacrificali offerte agli dei di un tempo. Oltre il mare, nelle campagne rurali della Gran Bretagna, un altro rituale peculiare noto come mangiare il peccato fu praticato fino al XIX secolo. I mangiatori di peccati, spesso emarginati sociali, erano chiamati a consumare pane e birra posti sopra il defunto, simbolicamente ingerendo i loro peccati per garantire il loro passaggio pacifico nell'aldilà. L'ultimo mangiatore di peccati registrato, un uomo di nome Richard Monslow, morì nel 1906 a Shropshire, Inghilterra. Si può immaginare il peso dei peccati di una comunità, divorati nella speranza della salvezza. Di fronte all'inevitabilità della morte, Socrate una volta rifletté, temere la morte, amici miei, è solo pensare di essere saggi senza esserlo, perché è pensare di sapere ciò che non sappiamo. Mentre ci addentriamo nei rituali che hanno guidato le anime nell'aldilà, affrontiamo le nostre percezioni della morte, sfidandoci a riflettere. Cosa si nasconde oltre il velo della mortalità? Unisciti a noi mentre esploriamo queste soglie tra i viventi e l'Eterno, i luoghi dove l'umanità ha cercato di fare pace con la fine inevitabile. Benvenuti nel diario di Giulio Cesare. Abbracciando l'eternità, la pratica inquietante del Soku Shinbutsu in Giappone. Tra le montagne nebbiose del Giappone, una pratica inquietante ed esoterica una volta catturò la devozione e l'immaginazione di un gruppo selezionato di monaci buddhisti. Conosciuta come Soku Shinbutsu, questo rituale ascetico comportava il processo deliberato e meticoloso di automummificazione. Un viaggio che avrebbe trasformato questi uomini sacri in simboli duraturi di illuminazione e preservazione spirituale. Come scrisse una volta il poeta giapponese Matsuo Basho, il viaggio stesso è la mia casa. E per i monaci che intrapresero questo cammino, il loro ultimo viaggio fu una testimonianza del loro impegno incrollabile alla fede buddista. La pratica del Soku Shinbutsu emerse durante il periodo Heian 794-1185 in Giappone, un'epoca in cui il buddismo fiorì e le pratiche ascetiche guadagnarono prominenza. I monaci che intrapresero questo viaggio credevano che mummificandosi vivi avrebbero potuto trascendere il ciclo della morte e della rinascita, raggiungendo uno stato di meditazione eterna e diventando un'incarnazione vivente del Buddha. Uno dei primi esempi registrati di Soku Shinbutsu fu quello del monaco Kukai, noto anche come Kobo Daishi, si dice che si è entrato in uno stato di profonda meditazione nell'anno 835 all'età di 61 anni, per non risvegliarsi mai più. Il suo corpo mummificato fu scoperto nel 921 sul Monte Koya, dove rimane ancora oggi consacrato. Il processo di auto-mummificazione era arduo e si estendeva per oltre un decennio, diviso in fasi distinte, ognuna più rigorosa dell'ultima. Inizialmente, il monaco aderiva a una dieta nota come Mokujikigyo, che si traduce letteralmente in mangiare un albero. Questa dieta consisteva esclusivamente di aghi di pino, resine e semi, eliminando tutti i cereali e iniziando così la graduale disidratazione del corpo. Questa fase, della durata di mille giorni, era progettata per eliminare il grasso e l'umidità che contribuiscono alla decomposizione. In seguito, il monaco intraprendeva una dieta ancora più estrema di corteccia e radici, riducendo ulteriormente il contenuto di grasso e umidità del corpo. Accanto a questo regime dietetico, il monaco si impegnava in un'attività fisica rigorosa per eliminare il grasso corporeo e aumentare la resistenza del corpo. Questa seconda fase, anch'essa della durata di mille giorni, preparava il monaco per la parte finale e più estrema del processo. Il monaco Kukai, fondatore del buddismo Shingon, è spesso citato per le sue vedute sull'unità di corpo e spirito. Il corpo è un vaso della legge. Per monaci come Tetsu Monkai Shonin, questa convinzione era letterale. I loro corpi diventavano vasi per una verità superiore, trascendendo il decadimento della morte. Il culmine di questa pratica vedeva il monaco entrare in una tomba di pietra appena più grande del suo corpo, dove si sedeva nella posizione del loto. Un tubo di bambù forniva aria e una campana, per segnalare la sua presenza vivente e continua. Una volta che la campana cessava, il tubo d'aria veniva rimosso e la tomba sigillata. Nel 1829, il silenzio di Tetsu Monkai Shonin all'interno della tomba segnalava la sua transizione, un momento atteso con riverenza da coloro che lasciava dietro di sé. Il corpo del monaco rimaneva sepolto per un altro migliaio di giorni, dopo i quali veniva riesumato. Se il corpo veniva trovato mummificato, il monaco veniva venerato come un Soku Shinbutsu, avendo raggiunto uno stato di illuminazione eterna. Se no, il tentativo, sebbene non riuscito, veniva comunque onorato per la sua pietà e dedizione. Uno degli esempi più famosi di Soku Shinbutsu è quello del monaco Tetsu Monkai Shonin, che iniziò il suo viaggio verso l'automumificazione alla fine del XVIII secolo. Nato nel 1742 nel villaggio di Tsuruoka, Tetsu Monkai era un devoto seguace della setta Shingon del buddismo. All'età di 58 anni, intraprese il cammino del Soku Shinbutsu, ritirandosi in una piccola camera murata di pietra sul sacro Monte Yudono. Lì trascorse gli ultimi anni della sua vita in profonda meditazione. Il suo corpo lentamente consumandosi, mentre consumava solo il minimo indispensabile di sostentamento. Nel 1829, dopo quasi tre anni di questa pratica ascetica, i discepoli di Tetsu Monkai lo trovarono in uno stato di perfetta meditazione, il suo corpo mummificato e conservato per l'eternità. Oggi, i suoi resti possono essere visti al tempio Nangakuji, a Tsuruoka, una testimonianza della sua devozione duratura e della potenza del rituale Soku Shinbutsu. La pratica del Soku Shinbutsu non era priva di pericoli e controversie. Molti monaci che tentavano questo viaggio morivano molto prima di raggiungere la mummificazione, i loro corpi devastati dalle dure pratiche ascetiche e dall'ambiente implacabile delle montagne. Altri erano persi agli animali selvatici o agli elementi, i loro sacrifici dimenticati da tutti tranne che dai seguaci più devoti. Inoltre, l'atto dell'automummificazione non era ufficialmente sanzionato dalle autorità buddiste, che lo vedevano come una pratica estrema e non ortodossa. Nelle parole dello studioso buddista e monaco Kukai, il vero cammino verso l'illuminazione non risiede nella conservazione del corpo, ma nella liberazione della mente. Nonostante queste sfide, l'eredità del Soku Shinbutsu è sopravvissuta, catturando l'immaginazione delle persone in tutto il mondo. I resti mummificati di questi monaci devoti, con le loro espressioni serene e le vesti perfettamente conservate, servono come un promemoria inquietante delle lunghezze a cui alcuni andranno nella ricerca dell'illuminazione spirituale. Nelle montagne della prefettura di Yamagata, il tempio di Dainichibo ospita i corpi mummificati di sedici monaci che hanno subito il Soku Shinbutsu, i loro volti incisi con la serenità e la contentezza di coloro che hanno trovato la pace eterna. Come scrisse il poeta Kobayashi Issa, in questo mondo effimero, a cosa c'è da aggrapparsi? Solo ai fiori di ciliegio, solo alla luna. Oggi, la pratica del Soku Shinbutsu non viene più esercitata, essendo stata ufficialmente bandita dal governo giapponese alla fine del XIX secolo. Tuttavia, lo spirito di questi monaci ascetici vive ancora, le loro storie e sacrifici tramandati attraverso le generazioni come testimonianza del potere duraturo della fede e dello spirito umano. Nei templi silenziosi e nelle montagne nebbiose del Giappone, il ricordo del Soku Shinbutsu perdura, un promemoria inquietante delle lunghezze a cui alcuni andranno nella ricerca della verità eterna. Come disse il maestro Zen Dogen, «Se non puoi trovare la verità proprio dove sei, dove altro ti aspetti di trovarla? Echi dell'eternità, le inquietanti torri del silenzio nella tradizione zoroastriana. Nelle antiche terre della Persia, dove i sussurri della storia si mescolano con gli echi del divino, una misteriosa e macabra tradizione si è perpetuata per secoli. Le torri del silenzio zoroastriane, conosciute come dacma, stanno come sentinelle silenziose, testimoniando una pratica che ha affascinato e inquietato coloro che l'hanno incontrata. Queste torri senza tetto, esposte agli elementi e allo sguardo implacabile del sole, servono come ultimo luogo di riposo per i defunti, dove i loro resti terreni sono offerti agli uccelli di preda in un rituale di purificazione e trasformazione. Lo storico greco Erodoto, scrivendo nel V secolo, descrisse la pratica zoroastriana della sepoltura celeste come una meraviglia da vedere, un testimone delle strane e meravigliose usanze dell'Oriente. Le origini delle torri del silenzio possono essere ricondotte agli insegnamenti di Zoroastro, l'enigmatico profeta che fondò l'antica religione dello zoroastrismo nel VI secolo. Centrale nella fede zoroastriana è il concetto di purezza e l'idea che gigli elementi della natura, terra, acqua, fuoco e aria, debbano essere protetti dall'inquinamento della morte. Nei testi sacri della Vesta, Zoroastro parla dell'importanza di disporre dei morti in modo che preservi la santità di questi elementi, affermando Il corpo, quando l'anima lo ha lasciato, non deve essere sepolto nella terra, né bruciato con il fuoco, né gettato nell'acqua, perché ciò contaminerebbe questi sacri elementi. Questa convinzione è ulteriormente rafforzata nel Vendidad, un testo zoroastriano successivo, che dichiara la dacma è il luogo dove il corpo viene purificato e l'anima liberata dai legami del mondo materiale. E così nacquero le torri del silenzio, una soluzione al problema dello smaltimento dei morti senza contaminare il mondo dei vivi. La più antica dacma conosciuta risale al V secolo, situata nell'antica città di Pasargadae, in quello che ora è l'Iran. Nel tempo, queste torri si diffusero in tutto l'impero persiano, diventando una parte integrante dei riti funerari zoroastriani e una caratteristica distintiva del paesaggio religioso. Il viaggiatore arabo Ibn Battuta, visitando la Persia nel XIV secolo, descrisse le torri del silenzio come «uno spettacolo strano e pauroso, un luogo dove i morti sono lasciati alla merce del cielo e degli uccelli». Uno degli esempi più famosi di una torre del silenzio si può trovare nella città di Yazd, Iran, dove la comunità zoroastriana ha mantenuto la pratica della sepoltura celeste per oltre mille anni. La dacma di Yazd, situata in cima a una collina arida ai margini della città, è una struttura imponente, le cui mura circolari si innalzano oltre 6 metri di altezza e misurano quasi 30 metri di diametro. All'interno di queste mura, una serie di cerchi concentrici e lastre di pietra segnano gli ultimi luoghi di riposo dei defunti, i loro corpi disposti in file in attesa dell'arrivo degli avvoltoi e altri uccelli di preda. L'esploratrice britannica Freya Stark, visitando Yazd negli anni Trenta, descrisse la dacma come «un luogo di spettrale bellezza, dove il silenzio dei morti è rotto solo dal fruscio delle ali e dai gridi degli avvoltoi». Il rituale di posizionamento dei morti all'interno della Torre del Silenzio è un affare solenne e sacro, intriso di secoli di tradizione e simbolismo. Il corpo, dopo essere stato lavato e vestito in semplici tuniche bianche, viene portato alla torre da un gruppo di portantini, che si considerano temporaneamente impuri a causa del loro contatto con il morto. All'ingresso della torre, il corpo viene adagiato su una lastra di pietra rivolto verso il sole e lasciato alla merced degli elementi e degli uccelli. Il diplomatico britannico del XIX secolo Monier Williams, assistendo a un funerale zoroastriano in India, scrisse «La processione si snodava lentamente sulla collina, i partecipanti intonando preghiere e inni, man mano che avanzavano. In cima, il corpo veniva disteso sulla pietra e gli avvoltoi cominciavano a radunarsi, volteggiando sopra come una nuvola oscura e minacciosa. Per gli izoroastriani, gli avvoltoi e altri uccelli di preda che scendono sulle torri non sono visti come araldi della morte, ma piuttosto come agenti di purificazione, consumando la carne e lasciando dietro solo le ossa. Nelle parole del sacerdote supremo zoroastriano, Dastur Kotwal, «Gli avvoltoi sono i nostri partner nel viaggio dell'anima. Essi purificano il corpo da tutte le impurità, lasciandolo puro e pronto per la prossima fase dell'esistenza». Questa convinzione è fatta eco nelle parole del poeta zoroastriano Firdausi, che scrisse nel X secolo «L'avvoltoio è il messaggero del cielo, portando l'anima al regno del divino». Tuttavia, nonostante il profondo significato spirituale delle torri del silenzio, la pratica della sepoltura celeste non è stata priva di sfide e controversie. Nel XX secolo, mentre le comunità zoroastriane cominciavano a diminuire e il numero di avvoltoi in Iran e in India declinava, l'efficacia delle dacma fu messa in discussione. A Mumbai, India, casa di una delle più grandi popolazioni zoroastriane del mondo, la torre del silenzio nel quartiere di Malabar Hill divenne fonte di tensione e di battito, poiché la mancanza di avvoltoi portò all'accumulo di corpi e alla minaccia di malattie. La scrittrice Parsi Bapsi Sidua, nel suo romanzo The Crow Eaters, descrive la situazione della comunità zoroastriana a Mumbai, scrivendo «Gli avvoltoi erano scomparsi e i morti giacevano marcendo nelle torri del silenzio, un silenzioso testimone del passaggio di un'epoca». Negli ultimi anni, alcune comunità zoroastriane hanno iniziato ad esplorare metodi alternativi di smaltimento dei morti, come la cremazione o la sepoltura in tombe foderate di cemento. Tuttavia, per molti, le torri del silenzio rimangono un potente simbolo della loro fede e un collegamento con il loro passato antico. Come ha scritto lo studioso zoroastriano Khojeste Mistri, la dacma non è solo un luogo di morte, ma un luogo di transizione, dove l'anima lascia il corpo dietro e inizia il suo viaggio verso il mondo successivo. E così, le torri del silenzio perdurano, ergendosi alte e silenziose contro i venti del cambiamento, un testimone della duratura potenza della fede e del ciclo eterno di vita e morte. Nelle parole di zoroastro stesso, l'anima è immortale e il corpo è solo un vaso per il suo viaggio attraverso il mondo. Sussurri dalle profondità L'enigma inquietante dei corpi delle paludi dell'Europa Nelle oscure profondità delle torbiere di torba dell'Europa, un mistero inquietante è rimasto dormiente per migliaia di anni. Preservati dalla chimica unica della palude, i resti di antichi individui noti come corpi delle paludi hanno catturato l'immaginazione di archeologi, storici e del pubblico allo stesso modo. Questi cadaveri, stranamente ben conservati, con la loro pelle coriacea, capelli vividi e abbigliamento intricato, offrono uno sguardo senza pari nella vita, nella morte e nelle credenze delle società dell'età del ferro e dell'alto medioevo. Come scrisse il rinomato poeta irlandese Shamus Hini nella sua raccolta Nord, la palude ha conservato il suo segreto, la pietra, il suo silenzio. La dea mantiene la sua posizione. Il fenomeno dei corpi delle paludi si estende in tutta l'Europa settentrionale, dall'Irlanda alla Danimarca, con la maggior parte dei resti scoperti che risalgono all'età del ferro, tra il 500 prima dell'era comune e il 500 dell'era comune. Uno dei corpi delle paludi più famosi è l'uomo di Tollund, scoperto nel 1950 in una torbiera di torba vicino a Silkeborg, in Danimarca. Con la sua espressione pacifica e le caratteristiche notevolmente conservate, l'uomo di Tollund sembra essere semplicemente addormentato, smettendo il fatto che sia morto oltre 2300 anni fa. Gli archeologi hanno determinato che fu impiccato con una corda di cuoio intrecciato, probabilmente come sacrificio rituale Ugly Day. Un altro famoso corpo delle paludi danese è l'uomo di Grauballe, trovato nel 1952, la cui espressione contorta e la bocca spalancata suggeriscono una morte più angosciante. Un altro corpo delle paludi degno di nota è l'uomo di Lindow, scoperto nel 1984 a Cheshire, Inghilterra. Conosciuto anche come Pete Marsh, un cenno giocoso alla sua tomba acquatica, l'uomo di Lindow ha incontrato una fine particolarmente macabra. L'analisi dei suoi resti ha rivelato che fu colpito alla testa, strangolato, e Gli fu tagliata la gola prima di essere gettato nella palude. La precisione e la molteplicità delle sue ferite suggeriscono che l'uomo di Lindow fu vittima di un omicidio cerimoniale, forse come offerta Ugly Day o come punizione per una trasgressione contro la sua comunità. La scoperta dell'uomo di Lindow è stato un momento fondamentale nella ricerca sui corpi delle paludi, poiché fu la prima volta che tecniche forensi moderne furono utilizzate per studiare questi antichi resti. L'abilità unica delle paludi di conservare resti umani ha fornito ai ricercatori un'opportunità senza precedenti per studiare le caratteristiche fisiche, la salute e gli stili di vita dei popoli antichi. Ad esempio, il contenuto dello stomaco dell'uomo di Grauballe, un corpo delle paludi della Danimarca risalente al III secolo, ha rivelato un ultimo pasto di porridge fatto da 60 tipi diversi di semi e erbe. Questa scoperta ha illuminato le abitudini alimentari e le pratiche agricole delle comunità dell'età del ferro nella regione. Allo stesso modo, le acconciature elaborate e le unghie ben curate della donna di Helling, un altro corpo delle paludi danese del III secolo, suggeriscono che fosse una donna di alto status sociale, sfidando le nozioni preconcette sui ruoli di genere nelle società preistoriche. Come ha notato l'archeologo P.V. Globe nella sua opera fondamentale Il popolo delle paludi, i corpi delle paludi sono una fonte unica di informazioni sui nostri antenati, il loro modo di vivere, le loro credenze e il loro destino. La scoperta dei corpi delle paludi ha anche innescato discussioni sulle pratiche religiose e ritualistiche delle comunità dell'età del ferro e dell'alto medioevo. Molti studiosi ritengono che questi individui fossero vittime sacrificali, offerti agli dèi, come parte di un complesso sistema di credenze e superstizioni. Nel suo libro Il popolo delle paludi, l'uomo dell'età del ferro preservato, l'archeologo danese P.V. Globe sostiene che i corpi delle paludi fossero consacrati alla dea della palude, una figura divina che richiedeva offerte di sangue in cambio delle proprietà vitali della torba. Questa teoria è supportata dal fatto che molti corpi delle paludi, come l'uomo di Windeby dalla Germania, datato intorno al 100 d.C., e Franz Rosso dai Paesi Bassi, datato intorno al 200 d.C., sono stati trovati con corde o altri segni di uccisione rituale. Questa teoria è supportata dal fatto che molti corpi delle paludi mostrano segni di uccisione rituale, come l'impiccagione dell'uomo di Tollund o le molteplici ferite inflitte all'uomo di Lindau. Inoltre, le stesse paludi erano probabilmente viste come luoghi sacri, spazi liminali tra il mondo dei vivi e il regno degli dèi. Il gesto di depositare un corpo nella palude potrebbe essere stato un modo di comunicare con il divino, un mezzo per assicurarsi il favore degli dèi o per espiare misfatti passati. Lo storico romano Tacito, scrivendo nel I secolo, descrisse la pratica del sacrificio umano delle tribù germaniche, notando che credono che gli dèi siano più compiaciuti da tali offerte. Tuttavia, non tutti i corpi delle paludi furono il risultato di sacrifici rituali. Alcuni, come la ragazza di Windeby dalla Germania, potrebbero essere stati individui ordinari che morirono per cause naturali o incidenti e furono semplicemente sepolti nella palude. Altri, come Glee, uomini di Wirdinge dai Paesi Bassi, potrebbero essere stati vittime di conflitti armati o esecuzioni. La gamma diversificata di età, generi e cause di morte dei corpi delle paludi evidenzia la complessità delle società dell'età del ferro e dell'alto medioevo, sfidando narrazioni semplificate di barbarie o superstizione primitiva. Come ha osservato l'archeologa Heather Gill Robinson, i corpi delle paludi non sono solo una curiosità o uno spettacolo macabro. Sono una finestra sulla vita e sulla morte di persone reali, con tutta la complessità e la sfumatura che ciò comporta. Man mano che gli scienziati moderni continuano a studiare questi resti antichi, emergono nuove intuizioni sulla vita e sulla morte dei corpi delle paludi. L'analisi del DNA della ragazza di Ide, un corpo delle paludi dei Paesi Bassi, ha rivelato che era probabilmente membro di una famiglia nobile, aggiungendo ulteriori sfumature alla nostra comprensione delle gerarchie sociali nell'Europa preistorica. Allo stesso modo, tecniche di imaging avanzate hanno permesso ai ricercatori di ricostruire i tratti facciali dei corpi delle paludi come l'uomo di Osterby, dando un volto umano a questi individui morti da tempo e favorendo un senso di connessione con il nostro passato antico, come ha scritto la storica Karin Sanders nel suo libro Corpi nella palude. I corpi delle paludi non sono solo campioni scientifici o reperti archeologici, sono individui con storie da raccontare ed è nostra responsabilità ascoltare. Volti congelati nel tempo, l'inquietante eredità delle maschere funebri, negli annali della storia umana il desiderio di preservare l'aspetto dei defunti è stato un tema ricorrente attraverso culture e secoli. Uno dei metodi più intriganti e intimi per catturare il viso dei morti è attraverso la creazione di maschere funebri. Queste impressioni inquietanti, prese direttamente dal viso del defunto, offrono uno sguardo unico sulla vita e sui tempi di coloro che sono passati. Lo storico romano Polibio, scrivendo nel secondo secolo, notava l'importanza di onorare i defunti. La cosa più preziosa nella vita è essere ricordati dopo la morte. La tradizione di creare maschere funebri risale alle antiche civiltà, con i primi esempi noti che provengono dall'antico Egitto. La famosa maschera d'oro di Tutankhamon, scoperta da Howard Carter nel 1925, è forse l'esempio più noto di questa pratica. Gli antichi egizi credevano che preservare l'aspetto del defunto fosse essenziale per il viaggio dell'anima nell'aldilà. Nella tomba di Khnum Nakt della XII dinastia, 1991-1802, fu trovata una maschera funebre di gesso, mostrando il dettaglio intricato e l'artigianato del tempo. Nella storia più recente, le maschere funebri guadagnarono prominenza durante il Medioevo e il Rinascimento. Queste maschere erano spesso utilizzate come riferimento per scultori e pittori incaricati di creare ritratti realistici dei defunti. Un esempio notevole è la maschera funebre del poeta italiano Dante Alighieri, presa dopo la sua morte a Ravenna nel 1321. Questa maschera servì come base per numerosi ritratti e sculture del rinomato scrittore, assicurando che la sua somiglianza perdurasse per secoli. Un'altra famosa maschera funebre di questo periodo è quella del re inglese Enrico VII, presa alla sua morte nel 1509 al Richmond Palace. La pratica di creare maschere funebri raggiunse il suo apice nei secoli XVIII e XIX, particolarmente in Europa e negli Stati Uniti. Durante questo periodo le maschere funebri non erano solo usate per scopi artistici, ma anche come mezzo di commemorazione e ricordo. Le famiglie spesso esponevano le maschere funebri dei loro cari nelle loro case, servendo come connessione tangibile con coloro che erano passati. La maschera funebre del filosofo francese Blaise Pascal, presa dopo la sua morte a Parigi nel 1662, fu tesaurizzata dalla sua famiglia e dagli amici come ricordo della sua mente brillante e della sua natura pia. Una delle maschere funebri più famose di questo periodo è quella di Napoleone Bonaparte, presa poco dopo la sua morte in esilio sull'isola di Sant'Elena nel 1221. La maschera, che cattura l'espressione serena dell'imperatore nei suoi ultimi momenti, è stata oggetto di molta fascinazione e studio. In una lettera a suo fratello Giuseppe, il medico personale di Napoleone, Francesco Anton Marchi, descrisse il processo di creazione della maschera. «Ho preso la precauzione di far fare uno stampo del suo viso, che è venuto perfettamente bene. Ho l'onore di inviarlo a te, sapendo che sarà un prezioso ricordo per te». La maschera funebre del leader rivoluzionario francese Massimiliano Robespierre, presa dopo la sua esecuzione a Parigi nel 1294, è un altro esempio suggestivo di questo periodo. La maschera funebre di Abraham Lincoln, presa dallo scultore Clark Mills a Washington, D.C., nel 1865, è un altro esempio notevole di questo periodo. La maschera, che cattura le caratteristiche scarnite e segnate dal dolore del presidente, serve come un promemoria commovente del tributo che la guerra civile inflisse alla nazione e al suo leader. In una lettera a sua moglie, Mary Todd Lincoln, Mills, scrisse dell'esperienza «Non ho mai visto un volto più perfetto, era così grande e nobile, eppure così triste e tenero». La maschera funebre dell'autore americano Edgar Allan Poe, presa dopo la sua morte misteriosa a Baltimora nel 1849, è stata oggetto di molta speculazione e intrigo. La tradizione di creare maschere funebri iniziò a declinare nei primi anni del XX secolo, man mano che la fotografia divenne più diffusa e accessibile. Tuttavia, l'eredità di queste impressioni inquietanti perdura, offrendo uno sguardo unico e intimo sulla vita e sui tempi di coloro che ci hanno preceduto. Oggi, le maschere funebri si possono trovare in musei e collezioni private in tutto il mondo, servendo come testimonianza del potere duraturo del volto umano e del desiderio di preservarlo per la posterità. Come scrisse il poeta americano Ezra Pound, «L'immagine è più di un'idea, è un vortice o un grappolo di idee fuse ed è dotata di energia». Nelle parole del filosofo francese Maurice Blanchot, «La maschera è il volto e il volto è una maschera». Queste parole risuonano vere quando si considera la bellezza inquietante e il significato storico delle maschere funebri. Servono come un ponte tra i vivi e i morti, offrendo una connessione tangibile con coloro che hanno plasmato il nostro mondo e la nostra comprensione di cosa significhi essere umani. Riposo eterno sul campo di battaglia Come la guerra civile trasformò l'imbalsamazione in America. In mezzo al caos e alla carneficina della guerra civile americana una silenziosa rivoluzione stava avvenendo dietro le linee del fronte. Mentre il conflitto infieriva, mietendo le vite di centinaia di migliaia di soldati, emerse una nuova pratica che avrebbe per sempre cambiato il modo in cui gili americani piangevano i loro morti. L'arte dell'imbalsamazione un tempo una tecnica raramente utilizzata divenne una necessità mentre le famiglie cercavano di riportare a casa i loro cari caduti per una degna sepoltura. Come scrisse il famoso poeta Walt Whitman che prestò servizio come infermiere durante la guerra La vera guerra non entrerà mai nei libri. La guerra civile combattuta dal 1861 al 1865 fu un momento di svolta nella storia americana. La scala senza precedenti del conflitto combinata con l'avvento di nuove tecnologie come il telegrafo e la ferrovia significava che la notizia della morte di un soldato poteva raggiungere la sua famiglia entro giorni. Tuttavia le lunghe distanze tra i campi di battaglia e le città natali dei soldati presentavano una sfida scoraggiante. Come poteva una famiglia assicurarsi che i resti del proprio caro arrivassero a casa intatti. Nel 1862 un soldato di nome James Cathy della Carolina del Nord morì in un ospedale dell'Unione a Filadelfia. Sua moglie Mary viaggiò dalla loro casa nella contea di Boncombe per recuperare il suo corpo solo per scoprire che era già stato sepolto in un cimitero locale. Entrano in scena glaì imbalsamatori. Questi abili praticanti armati di conoscenza dell'anatomia e di una varietà di conservanti chimici allestirono i loro laboratori vicino alle linee del fronte offrendo i loro servizi alle famiglie in lutto. Uno degli imbalsamatori più famosi dell'epoca della guerra civile fu il dottor Thomas Holmes spesso accreditato di aver popolarizzato la pratica negli Stati Uniti. Nel 1861 Holmes imbalsamò il corpo del colonnello Elmer Ellsworth un amico del presidente Abraham Lincoln ucciso ad Alexandria Virginia. I resti preservati di Ellsworth furono trasportati alla Casa Bianca per un servizio funebre e il pubblico rimase stupito dall'aspetto vitale del corpo. Holmes andò avanti ad imbalsamare molte altre figure notevoli durante la guerra inclusi il generale Stonewall Jackson e il generale Robert E. Lee. La notizia del successo di Holmes si diffuse rapidamente e presto altri imbalsamatori iniziarono la loro attività vicino ai campi di battaglia. La domanda per i loro servizi era alta poiché le famiglie erano disposte a pagare una somma considerevole per assicurarsi che i loro cari potessero essere sepolti a casa. In una lettera alla sua moglie un soldato dell'Unione di nome John F. Chase scrisse Se dovessi cadere in battaglia fai imbalsamare il mio corpo e mandalo a casa. Non voglio essere sepolto sul campo di battaglia. Un altro soldato David Ballenger scrisse alla sua moglie nel 1864 Voglio che tu faccia imbalsamare il mio corpo e mandarlo a casa se dovessi essere ucciso. Il processo di imbalsamazione durante la guerra civile era ben lontano dalle tecniche moderne usate oggi. Gli imbalsamatori iniettavano tipicamente una soluzione conservante solitamente contenente arsenico o mercurio nelle arterie del corpo. Gli organi interni venivano quindi rimossi e sostituiti con un materiale di riempimento come segatura o gesso di Parigi. Il corpo veniva vestito con un abito o un uniforme e posto in una bara di legno per il trasporto. Un imbalsamatore il dottor Auguste Renoir affermò di aver imbalsamato oltre millecento corpi durante la guerra usando una formula segreta che rifiutava di rivelare. L'ascesa dell'imbalsamazione durante la guerra civile ebbe un profondo impatto sulle pratiche funebri americane. Prima della guerra la maggior parte delle famiglie seppelliva i propri morti entro un giorno o due dalla morte e l'idea di conservare un corpo per un periodo prolungato era vista come innaturale. Tuttavia la necessità dell'imbalsamazione durante la guerra aiutò a normalizzare la pratica che presto divenne una parte standard dell'industria funebre americana. Nel 1865 fu fondata a Rochester, New York la prima organizzazione professionale di imbalsamazione l'associazione nazionale dei direttori funebri. L'eredità dell'imbalsamazione durante la guerra civile può ancora essere vista oggi nel modo in cui G. Lee americani piangono i loro morti. La pratica di tenere una veglia o un risveglio dove amici e familiari si radunano per rendere omaggio al defunto alle sue radici nell'epoca della guerra civile. La vista di un corpo conservato e vitale in una bara una volta una novità è diventata una presenza familiare e confortante ai funerali americani come scrisse il famoso direttore funebre e imbalsamatore George Huntington nel suo libro del 1883 I principi e la pratica dell'imbalsamazione l'arte dell'imbalsamazione ha fatto più per alleviare il dolore dei dolenti di qualsiasi altra agenzia umana tuttavia l'uso diffuso dell'imbalsamazione durante la guerra civile ebbe anche il suo lato oscuro i chimici usati nel processo erano altamente tossici e molti imbalsamatori soffrirono di problemi di salute come risultato della loro esposizione inoltre l'alta domanda per i servizi di imbalsamazione portò alla nascita di praticanti senza scrupoli che approfittavano delle famiglie in lutto chiedendo tariffe esorbitanti per lavori scadenti nel 1865 un articolo del New York Times avvertiva i lettori del pericolo di essere ingannati da imbalsamatori senza principi nonostante questi svantaggi l'impatto della guerra civile sulle pratiche di imbalsamazione non può essere sopravvalutato il conflitto accelerò l'adozione di una pratica che sarebbe diventata una pietra miliare dell'industria funebre americana cambiando il modo in cui piangiamo e ricordiamo i nostri morti come notò il dottor Richard Burr un prominente imbalsamatore dell'epoca nelle sue memorie la guerra civile fu la realizzazione dell'imbalsamazione in questo paese diede alla professione una prominenza e un'importanza che non aveva mai raggiunto prima legami eterni svelare la tradizione inquietante dei matrimoni fantasma cinesi tra le montagne nebbiose e gli antichi villaggi della Cina una peculiare e inquietante tradizione si è perpetuata per secoli sfidando i confini tra vita e morte i matrimoni fantasma una pratica in cui individui defunti vengono uniti postumi in matrimonio sono da lungo tempo una parte integrante della cultura cinese riflettendo credenze profondamente radicate sull'aldilà e sugli obblighi dei viventi verso i loro antenati come una volta disse il filosofo cinese Confucio i viventi devono onorare i morti e i morti devono proteggere i viventi le origini dei matrimoni fantasma possono essere fatte risalire alla dinastia Zhou 1046 256 quando il concetto di al di là iniziò a prendere forma nella filosofia cinese gli antichi cinesi credevano che il mondo degli spiriti riflettesse il regno dei viventi e che i defunti richiedessero le stesse necessità e compagnia che avevano in vita questa convinzione diede origine alla pratica di seppellire i morti con i loro possedimenti servi e persino i loro coniugi nella famosa tomba della signora di Dai risalente alla dinastia Han 206 220 gli archeologi scoprirono i resti di una donna sepolta con suo marito insieme a una varietà di oggetti domestici e servi tutti intesi a garantire il suo comfort nell'aldilà col passare del tempo la tradizione dei matrimoni fantasma si evolse diventando un mezzo per unire due individui deceduti che non si erano mai incontrati in vita le famiglie organizzavano queste unioni postume per una varietà di motivi che vanno dal compiere gli ultimi desideri dei defunti a garantire la continuazione della linea familiare in alcuni casi i matrimoni fantasma venivano persino usati per placare gigli spiriti irrequieti creduti essere la causa di sfortuna o malattie tra i viventi nel romanzo della dinastia Ming la rivolta dei demoni dei tre sui l'eroe sui Yangdi organizza un matrimonio fantasma tra sua figlia defunta e lo spirito di un guerriero per assicurarsi la sua alleanza in battaglia uno degli esempi più famosi di un matrimonio fantasma nella storia cinese è quello dell'imperatore Xuantong della dinastia Qing meglio conosciuto come Pui l'ultimo imperatore della Cina nel 1962 quasi un decennio dopo la morte di Pui sua vedova l'imperatrice Wan Rong morì in prigione nonostante fossero stati separati per anni i due furono riuniti postumi in una cerimonia di matrimonio fantasma le loro ceneri sepolte insieme in un cimitero di Pechino l'epitaffio sulla loro lapide recita qui giacciono la concubina imperiale Wen Xiu l'imperatore Xuantong e sua moglie l'imperatrice Xuantong Wan Rong riuniti in amore eterno la tradizione dei matrimoni fantasma non è limitata agli alti strati della società cinese tuttavia nei villaggi rurali di tutto il paese la pratica è rimasta una parte profondamente radicata della vita per secoli nel villaggio di Dongbao situato tra le montagne aspre della provincia di Shanxi i matrimoni fantasma sono ancora un evento comune qui la storia di Li Ziegang e della sua sposa defunta Wu Mei Lin è diventata una leggenda locale Li un giovane agricoltore era stato fidanzato con Wu per diversi anni quando la tragedia colpì Wu che lavorava in una fabbrica in città fu uccisa in un incidente lasciando Li devastato determinato a mantenere la sua promessa a Wu Li si avvicinò alla sua famiglia e propose un matrimonio fantasma le due famiglie accettarono e fu tenuta una cerimonia completa di un banchetto di nozze tradizionale e della combustione di effigi di carta che rappresentavano la sposa e lo sposo la storia di Li non è unica nel vicino villaggio di Yangao un simile matrimonio fantasma ebbe luogo nel 2012 tra il figlio defunto di un funzionario locale e il cadavere di una giovane donna la cui famiglia ricevette una sostanziosa dote in cambio del loro consenso la pratica dei matrimoni fantasma non è priva dei suoi aspetti più oscuri tuttavia negli ultimi anni ci sono state segnalazioni di ladri di tombe nelle province di Shanxi e Henan in Cina specializzati nel rubare i corpi di giovani donne da vendere a famiglie in cerca di spose per i loro figli defunti questo commercio macabro ha portato a misure di sicurezza aumentate nei cimiteri e ha un rinnovato interesse per le implicazioni etiche dei matrimoni fantasma nel 2015 il governo cinese ha ufficialmente vietato la pratica dei matrimoni fantasma citando preoccupazioni per la profanazione delle tombe e lo sfruttamento dei morti nonostante le controversie che circondano la pratica i matrimoni fantasma rimangono una testimonianza della forza duratura dell'amore e dei legami indissolubili di famiglia nella cultura cinese come scrisse il rinomato autore cinese Lushun i vivi sono perseguitati dai morti e i morti sono perseguitati dai vivi questo sentimento è forse da nessuna parte più evidente che nella tradizione dei matrimoni fantasma dove i confini tra vita e morte sono offuscati e l'amore si ritiene trascenda la tomba nelle parole del poeta della dinastia Tangli Shang'in sebbene siamo separati dal fiume del cielo il nostro amore durerà per mille autunni come dice il proverbio cinese il matrimonio è un'unione di due famiglie ma un matrimonio fantasma è un'unione di due anime l'ultima cena dell'anima svelare la macabra tradizione del mangiatore di peccati in Europa negli angoli ombrosi della storia europea una volta prosperava una pratica macabra e peculiare una tradizione che sfumava i confini tra il sacro e il profano il mangiatore di peccati un rituale in cui un individuo designato consumava un pasto sopra un cadavere per assorbire i peccati del defunto ha da lungo tempo catturato l'immaginazione di storici e folcloristi allo stesso modo questa antica tradizione con le sue radici profondamente intrecciate nelle nebbie del tempo offre uno sguardo inquietante sulle credenze e paure che hanno plasmato le vite dei nostri antenati come una volta osservò lo storico gallese Peter Stead il mangiatore di peccati è un promemoria dell'oscurità che un tempo tormentava l'anima umana le origini del mangiatore di peccati rimangono a volte nel mistero ma si ritiene che la pratica sia emersa nelle isole britanniche durante il medioevo in un'epoca in cui la chiesa cattolica aveva influenza sulla vita e sulla morte della popolazione il timore di morire con peccati non confessati pesava profondamente sulle menti dei fedeli il mangiatore di peccati spesso un membro povero o emarginato della società sarebbe stato convocato alla casa del defunto di recente dove avrebbe eseguito il suo lugubre rituale in cambio di una misera tariffa una delle prime testimonianze registrate del mangiatore di peccati può essere trovata negli scritti dell'antiquario inglese John Aubrey che alla fine del XVII secolo descrisse la consuetudine come praticata nel Herefordshire Shropshire e Galles il mangiatore di peccati sarebbe entrato nella stanza dove giaceva il cadavere una figura solenne avvolta in nero su un piatto posizionato sul petto della persona morta sarebbe stato disposto un pasto semplice di pane e sale in alcune regioni sarebbe stato fornito anche un bicchiere di birra o vino il mangiatore di peccati avrebbe quindi consumato il cibo e bevuto simbolicamente assumendo su di sé i peccati del defunto mentre mangiava avrebbe recitato una preghiera o un incantesimo come quello registrato nello Shropshire Inghilterra all'inizio del diciannovesimo secolo ora do sollievo e riposo a te caro uomo non scendere per i viali o nei nostri prati e per la tua pace impegno la mia stessa anima Amen questa inquietante invocazione con le sue implicazioni di sacrificio spirituale sottolinea la gravità del ruolo del mangiatore di peccati uno dei racconti più famosi del mangiatore di peccati proviene dal villaggio inglese di Ratby Lissestershire nel 1774 il mangiatore di peccati locale Richard Monslow fu chiamato a svolgere i suoi doveri per un contadino di nome Thomas Sketchley secondo la leggenda locale mentre Monslow consumava il pane e la birra sopra il cadavere di Sketchley dichiarò ora do sollievo e riposo a te caro uomo non scendere per i viali o nei nostri prati e per la tua pace impegno la mia stessa anima questo racconto agghiacciante è diventato un pilastro del folclore inglese testimonianza dell'interesse persistente per questa consuetudine macabra la storia di Monslow è stata raccontata innumerevoli volte ispirando opere di finzione come il romanzo La figlia del mangiatore di peccati di Melinda Salisbury mentre la pratica del mangiatore di peccati si diffondeva nelle isole britanniche assumeva diverse forme e rituali in Galles il mangiatore di peccati avrebbe posto un piatto di legno sul petto del cadavere con un pezzo di pane al centro e una moneta sopra il mangiatore di peccati avrebbe quindi preso la moneta come pagamento consumato il pane e bevuto un bicchiere di birra assolvendo così il defunto dai suoi peccati in Scozia il mangiatore di peccati si sarebbe seduto su uno sgabello vicino alla testa del cadavere mangiando un pezzo di pane e lavandolo giù con una ciotola di birra queste variazioni regionali riflettono la natura radicata della consuetudine che si adattava alle credenze e tradizioni uniche di ogni comunità il poeta scozzese James Hogg nel suo romanzo del 1824 le memorie private e le confessioni di un peccatore giustificato descrisse vividamente un rituale del mangiatore di peccati il pane e il vino venivano passati e ogni persona prendendoli pronunciava le parole che tutti i peccati del defunto siano perdonati nonostante la sua diffusa pratica il mangiatore di peccati non è mai stato ufficialmente sanzionato dalla chiesa infatti molte autorità religiose condannavano la consuetudine come una forma di superstizione e persino una tipologia di necromanzia il reverendo William Bingley scrivendo nel suo Nord Galles 1804 descrisse il mangiatore di peccati come una consuetudine superstiziosa che era un residuo di papismo questa tensione tra la dottrina ufficiale della chiesa e le credenze popolari della gente riflette la complessa relazione tra religione e magia nell'Europa premoderna l'opposizione della chiesa al mangiatore di peccati è ecco nelle parole del chierico gallese del XVIII secolo William Wirth la pratica del mangiatore di peccati è una consuetudine vile e abominevole un rito pagano e superstizioso che dovrebbe essere completamente abolito e soppresso con l'avvento dell'illuminismo in Europa nel XVIII secolo portando con sé nuove idee su religione scienza e società la pratica del mangiatore di peccati iniziò a declinare l'ascesa del protestantesimo con il suo enfasi sulla salvezza individuale e sulla comunicazione diretta con Dio rese il concetto del mangiatore di peccati obsoleto in molte aree inoltre l'aumento dell'influenza della scienza medica e la crescente consapevolezza dell'importanza dell'igiene resero l'idea di consumare cibo sopra un cadavere non solo superstiziosa ma anche pericolosa entro la metà del XIX secolo il mangiatore di peccati era largamente scomparso dalle isole britanniche sebbene casi isolati furono segnalati fino agli anni venti del novecento nel villaggio gallese di Chuum Carvan nonostante la sua graduale scomparsa l'eredità del mangiatore di peccati ha lasciato un segno indelebile sul folklore e sulla letteratura europea scrittori come Sir Walter Scott Thomas Hardy e James Joyce hanno tutti fatto riferimento alla consuetudine nelle loro opere assicurando che il ricordo di questa pratica macabra continui a vivere nell'immaginario popolare come scrisse il poeta inglese William Barnes nella sua poesia del 1898 Il velo del mattino e ancora il mangiatore di peccati esercita il suo mestiere dove la tomba è fresca e il cadavere è disteso il mangiatore di peccati ha anche ispirato opere contemporanee come il romanzo del 2003 Il mangiatore di peccati di Alice Thomas Ellis e il film del 2017 L'autopsia di Jane Doe che presenta un rituale del mangiatore di peccati come elemento centrale della trama Oggi la pratica del mangiatore di peccati è in gran parte relegata agli annali della storia un reliquia di un'epoca passata quando il timore della dannazione era grande nelle menti dei fedeli come scrisse il poeta italiano Dante Alighieri nella sua immortale Divina Commedia i luoghi più oscuri dell'inferno sono riservati a coloro che mantengono la loro neutralità in tempi di crisi morale Il mangiatore di peccati a modo loro macabro cercava di accendere una candela contro quell'oscurità offrendo una speranza finale di redenzione a coloro che temevano il giudizio dell'aldilà Ettari di decadimento la cruda realtà delle fattorie di corpi nella ricerca della giustizia Negli angoli tranquilli dell'America rurale si sta svolgendo un'impresa scientifica macabra ma cruciale Nidificate tra le colline ondulate e le dense foreste le fattorie di corpi sono emerse come uno strumento vitale nella ricerca della giustizia Questi impianti di ricerca dove i resti umani donati vengono lasciati alla mercè degli elementi hanno rivoluzionato il campo della scienza forense fornendo intuizioni inestimabili nel misterioso processo di decomposizione Come disse il rinomato antropologo forense il dottor Bill Bass La fattoria di corpi è un laboratorio dove possiamo studiare il corpo umano in tutte le sue fasi di decomposizione Il concetto di fattorie di corpi può essere fatto risalire agli inizi degli anni 70 quando il dottor William Bass pioniere nello studio della decomposizione umana stabilì il primo impianto del suo genere presso l'Università del Tennessee a Knoxville nel 1981 Bass fu chiamato a esaminare un insieme di resti fortemente decomposti trovati in un'area boschiva inizialmente credendo che i resti fossero antichi si rese presto conto che appartenevano a un individuo recentemente deceduto questa esperienza evidenziò la necessità di una migliore comprensione della decomposizione umana in vari ambienti con questo in mente Bass si prefisse di creare un luogo dove i corpi donati potessero essere studiati in un ambiente controllato imitando le varie condizioni in cui un cadavere potrebbe essere trovato nelle scene del crimine reali dalla sua istituzione l'Università del Tennessee Anthropological Research Facility affettuosamente conosciuta come la Fattoria di Corpi è diventata una mecca per G. Lee scienziati forensi di tutto il mondo distribuita su un appezzamento isolato di due ettari l'impianto ospita una serie di resti umani in varie fasi di decadimento alcuni corpi vengono lasciati esposti al sole e alla pioggia mentre altri sono sepolti in tombe poco profonde o sommersi in acqua ogni scenario fornisce dati preziosi su come diversi fattori ambientali influenzano il processo di decomposizione in un esperimento notevole Bass e la sua squadra hanno studiato gigli effetti di un bagagliaio di auto sulla decomposizione posizionando un corpo donato all'interno di un veicolo i risultati di questo studio sono stati da allora utilizzati in numerose indagini criminali uno dei casi di alto profilo che ha evidenziato l'importanza della ricerca nelle fattorie di corpi fu l'omicidio del 1993 di Martha Hanson a Tacoma Washington il corpo della vittima fu scoperto in un'area fortemente boschiva e gigli gli investigatori furono inizialmente sconcertati dallo stato avanzato di decomposizione fu solo attraverso l'esperienza del dottor Bass e dei suoi colleghi che avevano condotto ampi studi sull'impatto di diversi ambienti sui resti umani che furono in grado di determinare accuratamente il tempo della morte questo pezzo di informazione cruciale portò all'arresto e alla condanna dell'assassino mostrando l'applicazione reale della ricerca della fattoria di corpi come Bass affermò nel suo libro L'acre della morte la fattoria di corpi C permette di applicare direttamente alle vere cause la conoscenza che guadagniamo aiutando a risolvere i crimini e a portare chiusura alle famiglie nel corso degli anni altre fattorie di corpi sono emerse negli Stati Uniti ognuna contribuendo al crescente corpo di conoscenza nella scienza forense il Forensic Anthropology Center presso la Texas State University istituito nel 2008 dal dottor Daniel Westcott è una di queste strutture situato su un appezzamento di 26 ettari a San Marcos Texas il centro è stato fondamentale nello studio degli effetti del duro clima texano sulla decomposizione umana nel 2015 i ricercatori della struttura sono stati in grado di aiutare a identificare i resti di una persona scomparsa che era stata sepolta in una tomba poco profonda per oltre due anni fornendo chiusura alla famiglia in lutto il dottor Westcott ha sottolineato l'importanza di questo lavoro affermando ogni corpo racconta una storia ed è il nostro lavoro decifrare quella storia e dare una voce ai senza voce la ricerca condotta nelle fattorie di corpi non ha solo aiutato a risolvere crimini ma ha anche gettato luce sulle complessità del processo di decomposizione umana studiando le varie fasi di decadimento dal gonfiore iniziale e la decolorazione fino alla scheletrizzazione finale gli scienziati hanno guadagnato una comprensione più profonda dell'interazione complessa tra un cadavere e il suo ambiente questa conoscenza è stata cruciale nel stimare l'intervallo post-mortem un fattore critico nelle indagini criminali in uno studio fondamentale condotto alla fattoria di corpi dell'università del Tennessee negli anni 90 Bass e i suoi colleghi sono stati in grado di stabilire una cronologia per la decomposizione umana basata sulla presenza di certe specie di insetti questo studio è da allora diventato una pietra miliare dell'entomologia forense tuttavia il lavoro svolto nelle fattorie di corpi non è per i deboli di cuore le viste e gli odori dei resti umani in decomposizione possono essere schiaccianti anche per i ricercatori esperti la dot punessa Anna Dodi direttrice del Mütter Museum a Philadelphia una volta descrisse la sua esperienza in una fattoria di corpi come un assalto sensoriale ricordò l'odore pungente di decomposizione che permeava l'aria e la vista inquietante di corpi in vari stati di decomposizione un crudo promemoria della cruda realtà della morte nonostante le sfide Dodi rimane impegnata nel suo lavoro affermando non è un lavoro facile ma è incredibilmente importante la conoscenza che guadagniamo studiando questi corpi può fare una vera differenza nel mondo gli scienziati dedicati che lavorano nelle fattorie di corpi comprendono che la loro ricerca ha il potere di portare chiusura alle famiglie di portare i killer alla giustizia e di gettare luce sui misteri della morte come ha detto la dot.66 Dawny Stedman direttrice del Forensic Anthropology Center all'Università del Tennessee il lavoro che facciamo qui non riguarda solo la scienza riguarda fornire risposte e aiutare le famiglie a trovare pace questo sentimento è condiviso dai donatori stessi molti dei quali vedono il loro atto finale come un modo per restituire alla società in una lettera lasciata da un donatore alla fattoria di corpi della Texas State l'individuo scrisse spero che donando il mio corpo posso aiutare a rendere il mondo un posto più sicuro e più giusto anche nella morte nelle parole dell'autrice di True Crime Mary Roach che ha esplorato il mondo delle fattorie di corpi nel suo libro Stiff la storia della fattoria di corpi è la storia della scienza nel suo aspetto più nobile e più macabro è una storia delle straordinarie lunghezze a cui le persone andranno in nome della giustizia e della ricerca della conoscenza mentre ci addentriamo nelle ombre della storia esplorando le enigmatiche e talvolta inquietanti usanze che circondano la morte sia attraverso la serena immobilità delle maschere funebri il solenne dovere dei mangiatori di peccati o le toccanti promesse dai matrimoni fantasma cinesi abbiamo attraversato un regno dove la linea tra i vivi e i defunti si offusca questi rituali immersi nelle emozioni umane più profonde e nelle tradizioni offrono uno sguardo sui miria di modi con cui i nostri antenati cercavano di onorare ricordare e a volte continuare i legami con coloro che sono passati si dice la morte non è l'opposto della vita ma una parte di essa mentre ci congediamo da queste storie di ere passate e dalle affascinanti usanze che accompagnavano l'ultimo addio ricordiamoci che in ogni sussurro del passato c'è saggezza per i vivi la storia ci insegna che alla fine sono l'amore la memoria e i rituali che ci legano tessendo la danza intricata tra vita e morte grazie per aver viaggiato con noi attraverso il velo della storia possano le storie antiche accendere una luce di curiosità e comprensione nel tuo cuore fino a quando ci incontreremo di nuovo custodisci le storie che ci uniscono attraverso il tempo e ricorda nel grande arazzo dell'esistenza siamo tutti ma fili nella storia eterna di vita e morte addio che ci uniscono